Iscritto a parlare il senatore Borghi. Grazie presidente. Colgo l'invito della collega Pirro e torno a scuola cercando di tornare nel mio ruolo di docente precedente. E' sempre affascinante sentire spiegare l'economia da una biologa. E cercherò per quanto possibile di rimettere alcuni punti, ma giusto velocemente, tanto così per essere minimamente coerente. Anche perché tanto era in buona compagnia la collega Pirro, già da altre parti ho sentito beatificare crescite passate. Ma scusate, giusto così per far finta di essere persone che sanno quello di cui si sta parlando. Ma se il termine di paragone era il lockdown, è abbastanza probabile che nel momento stesso in cui uno esce di casa e ricomincia a lavorare il pil cresce un po'. Ma da lì a menarne vanto mi sembra forse un po' aggressiva, ecco come storiella. Perché sapete com'è? Da uno che è chiuso in casa a uno che esce e lavora, o c'è una crescita, o grande merito mio. No, forse si poteva dubitare del fatto che fosse utilissimo essere chiuso in casa. Però non certo prendere e ottenere come merito il fatto che si cresceva del 3% o qualcosa del genere. Invece è molto più utile cercare di capire come sta andando la nostra economia in rapporto agli altri paesi europei. Perché sapete che c'è quella cosa che si chiama congiuntura, che significa che indipendentemente da quanto bene o quanto male possiamo fare noi, c'è un'economia internazionale che per molti motivi, guerre, materie prime, inflazioni, decisioni di tassi da parte di banche centrali e così via, a un certo punto cresce per tutti, cala per tutti e se tu stai facendo meglio degli altri è probabile che sei bravo, se tu stai facendo peggio degli altri devi cominciare a capire se è una questione esclusivamente tua oppure se oggettivamente stai facendo degli errori. Dal punto di vista, e qui mi riaggancio a un'osservazione che ha aperto questo dibattito, un esempio da scuola di un periodo in cui tutti crescevano e noi non crescevamo, anzi stavamo andando in recessione e che quindi bisognava valutare se si stava sbagliando oppure se si stava facendo qualcosa di giusto, era il periodo delle politiche dell'onorevole Monti, del senatore Monti. Perché in quel caso prendere e fare dell'austerità non necessaria, mettere delle tasse eccessive, tagliare eccessivamente le spese ha provocato 12 trimestri di recessione mentre il resto del mondo cresceva e quindi probabilmente le cose non andavano benissimo, non era giusto, non era una politica corretta da fare. E però uno dice, ma magari l'ho fatto, perché come ho sentito per la milionesima volta dire, l'ho fatto per riportare i conti in ordine. Ma se all'inizio del mandato il debito PIL era 120%, quindi non è che i conti erano totalmente fuori dal mondo, perché significa che il debito PIL era più basso dell'attuale, e dopo la cura si è arrivati al 130%, evidentemente la cura non ha esattamente funzionato. Quindi noi abbiamo inflitto delle sofferenze all'economia per far aumentare il rapporto debito PIL. Quindi basta con queste lezioncine, è impossibile che ogni volta, quando uno ha i numeri che ormai sono stratificati, perché stiamo parlando di 15 anni fa, ormai passa il tempo incredibilmente, direi che è storia economica, quindi non è più da dire però poi migliorerò. Le revisioni Istat al 2011 non ci arrivano, ecco, mettiamola così. Per il resto, altrimenti stiamo parlando per il futuro. E scusate però qui, quando uno dice, ma voi state parlando di un piano strutturale di bilancio che non avete votato, è certo che non l'abbiamo votato, è ridicolo, ma è ridicolo perché è ridicolo sentire parlare di proiezioni a sette anni. L'Unione Europea, per carità, ha le sue regole, si mettono tutti assieme in una stanza e decidono che è quello lì. E allora, o ti adegui, oppure, altrimenti te ne vai, oppure rimani, cosa vuoi fare? Vuoi rimanere con quello vecchio di sistema economico? Ma ve lo ricordate com'era il vecchio fiscal compact, six pack, o così di questo tipo, che uno doveva ridurre il debito di un ventesimo per vent'anni, e così di questo tipo, una roba assolutamente ingestibile, per cui a un certo punto, applicando la famosa regola del piuttosto che niente, meglio piuttosto, non è il nostro, motivo per cui non l'abbiamo votato, perché è sciocco, cioè non risponde alle esigenze dell'economia italiana, ma non è che il compito che veniva assegnato in quel momento, in quella stanza, era disegna il piano strutturale di bilancio ottimo per l'Italia. No, era scegliere fra una cosa pessima e una cosa brutta. Allora a un certo punto dice, vabbè, scegliamo la cosa brutta, e se si decide di giocare secondo le regole, e questo governo ha deciso di giocare secondo le regole, io ho una mentalità rivoluzionaria, qualche volta preferirei ribaltarlo il tavolo, senza dubbio, però per ribaltare il tavolo bisogna anche essere pronti a fare la guerra al mondo. Può anche essere che non necessariamente in questo momento abbiamo la forza, la voglia o la volontà di fare la guerra al mondo, per cui è giusto prendere e seguire le regole che al momento ci sono, anche se sono sbagliate. Si chiama buon viso a cattivo gioco, credo che qualsiasi stato l'abbia fatto per molti anni in molto tempo. E questo buon viso a cattivo gioco cosa comporta? Comporta che dobbiamo star qui a discutere, l'ho sentito prima, no, quando si diceva, del PIL che nel 2031 crescerà del 2,2%, ma io spero che sia piuttosto chiaro a tutti in questa sala che il 2031 probabilmente, non so, saremo aggrediti dagli alieni, non lo so che diamine succederà e di sicuro nessuno sa che il PIL sarà del 2,2%, lo scriviamo perché lo dobbiamo scrivere, ma chi lo sa? Ma adesso scoppia la pace nel mondo, scoppia la guerra nel mondo, si trova più petrolio, se ne trova di meno, ma non sappiamo quello che succederà l'anno prossimo, figurarsi se sapremo che cosa succede nel 2031 e il passato è costellato di sfondoni clamorosi fatti sulle proiezioni a tre anni da persone molto reputate dal punto di vista accademico, no, e così via, ricordiamo il professor Padoan, e così via, no, che facevano i loro bei piani a tre anni di bilancio anche con le scorse legole e purtroppo, alla fine, purtroppissimo alla fine dei tre anni si scopriva che il PIL era più alto del 3 o più basso del 3, e così via, quindi tutti quei conti fatti in passato subivano le famose revisioni progressive. Ma è la stessa roba, scusate, delle società di rating, delle banche, e così via, quando dicono, quando il Fondo Monetario Internazionale fa le previsioni per l'anno dopo e così via, e poi fa le revisioni, rivede al ribasso, rivede al rialzo, cosa significa? Significa che io vedo come sta andando e poi man mano, alla fine, guarda, coincide proprio con quello che ho detto che ho revisionato un'ora fa, no? E questo, purtroppo, quando si tratta di previsioni economiche, questo è meglio che lo sappiamo, quindi, insomma, buona parte delle nostre discussioni che stiamo facendo per il futuro sono, così, speranza, ecco, e buoni propositi, però una cosa è certa, in questo momento sta succedendo una cosa che non sempre succede in passato e non sempre successe in passato. Stiamo andando meglio di tanti altri all'interno dell'Unione Europea. Stiamo andando meglio della Francia, stiamo andando meglio della Germania, non è usuale. La Francia, in questo momento, il nuovo governo, che non sa neanche tanto bene dove vorrà andare e se troverà supporto per queste cose, punta ad avere un deficit del 6,1. Signori, punta ad avere il deficit del 6,1. Punta! E non è assolutamente detto che ci arriverà. Che succede? Succede che sono scarsi loro, siamo bravi noi, ma probabilmente un po' tutte e due, mi verrebbe da dire, perché di solito, nei periodi di ordinaria amministrazione, mi verrebbe da dire, dove non è possibile fare chissà quali cambiamenti o chissà quali eccessi o di deficit o di tasse o similari, di solito la regola migliore è quella applicata tendenzialmente dai governi di centrodestra, motivo per cui economicamente tendono a performare meglio di quelli di centrosinistra. vale a dire lasciare abbastanza in pace i cittadini. Tendenzialmente è meglio, se non si fanno dei cambiamenti epocali in termini di deficit, in termini di debito e così via, è meglio lasciare in pace i cittadini, ridurre al minimo gli incomodi, alle imprese, cercare di sostituire delle tassazioni invasive con dei sistemi forfettari, tali per cui uno non deve stare lì a diventare matto, magari per pagare la stessa cifra di tasse, ma facendo una fatica incredibile con numeri, cifre e così via. Quindi, quello che stiamo cercando di fare noi in questo momento è abbastanza chiaro e sembra che funzioni, perché a un certo punto da una parte avevi l'ideona del reddito di cittadinanza e dall'altra parte e cosa faceva? La gente lavorava in nero perché così puntava ad avere il reddito di cittadinanza, meno occupati, perché se lavori in nero figurano meno occupati, e più spesa, non particolarmente efficiente. E' bastato ridurre quello, ma non è che sia una decisione popolare. È ovvio che chi aveva il reddito di cittadinanza se lo vede tagliato si arrabbia. Però il risultato che cos'è? Che comincia a lavorare in chiaro. Allora, lavora in chiaro, abbiamo l'aumento degli occupati, sale la base imponibile, aumenta il gettito fiscale, aumenta il gettito fiscale, c'è più margine per poter rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, e le cose un pochettino, un pochettino, migliorano. Sarebbe bello riuscire a avere la possibilità di investire, chiudo Presidente, sarebbe bello riuscire a avere la possibilità di investire di più, perché potremmo permettercelo. Noi in questo momento come saldo commerciale siamo molto meglio rispetto alla Francia, quindi potremmo permetterci più investimenti e farebbero un gran bene alla nostra economia e scenderebbe il rapporto debito-pil. Purtroppo le regole sono queste, noi, ripeto, facciamo buon viso a cattivo gioco, ma almeno partiamo con una bussola, non disturbare più di tanti cittadini e dall'altra parte i risultati sembra che ci stiano dando ragione.